una bella giornata dicevamo, Paola Turci magnifica e poi Paola Turci fa parte da donna, fa parte del coro delle donne che saranno sul palco dell'Ares c'è un'incidenza maggiore di uomini Paola quest'anno? Abbiamo notato abbiamo notato che ci sono quante? 6 donne su 24 artisti in gara tra band eccetera sì, ma voglio credere che magari le proposte non erano tutte interessanti quindi c'è stata una selezione un po' dispiace insomma, dispiace, mi piacerebbe un giorno vedere, accendere la tv seguire un festival dove ci sono 22 donne e 2 maschi, basta sarebbe bello di ogni genere poi che affrontano ogni genere di musica, però comunque noi ci faremmo ci faremmo valere, non staremmo certo a guardare posso dire che quando ho ascoltato la canzone due mi hanno emozionato la tua e quella di Nigiotti proprio la lacrima perché il tema affrontato è quello importante e poi lo fai sempre con quel tuo stile che è uno stile composto e poi è proprio la tua espressività quello che traspare quando la canti che la mette ancora di più il risalto beh, intanto questa canzone è tra le più impegnative che ho cantato proprio in vita mia è proporla a Sanremo in un palco così difficile e one shot perché qua canti una canzone e te ne vai non è un concerto in cui magari metti qualche canzone prima per prepararti per riscaldarti e tutto quanto qua devi essere già pronto già finito già al sesto brano ed è una canzone già impegnativa a livello proprio di tecnica vocale per me parlo per me poi l'ho alzata col produttore l'abbiamo alzata insomma in modo estremo detto questo sì questa canzone trae ispirazione dalla figura paterna ma poi in realtà a me viene anche da immaginare quella figura che noi volontariamente involontariamente cerchiamo vogliamo desideriamo accanto una persona che ci sappia ascoltare che ci ami per quello che siamo che ci che ci dica anche se cadiamo che va tutto bene una persona che abbia fiducia in noi una persona che sappia essere estremamente sincera e leale come un padre come solo un padre il bene che ti vuole un genitore penso che sia unico la serata dei duetti è un altro connubio importante è praticamente una collaborazione un'altra collaborazione importante per te per la serata dei duetti per la serata dei duetti ho scelto un uomo un uomo davvero una bellissima persona un bel tipo ma anche una bellissima persona piena di bellissime qualità a cominciare dalla bravura stiamo parlando di Beppe Fiorello è bravo talentuoso bravissimo attore bravissimo cantante sono stata due volte al suo spettacolo in questi anni penso che un sogno così si intitola dove lui parla del padre attraverso le canzoni di Domenico Modugno è uno spettacolo bellissimo è teatrale musicale ma è quella è quell'incrocio che io non amo tanto i musical è quell'incrocio che che sa raccontare bene anche attraverso le canzoni fatto benissimo una volta la prima volta che sono andata a sentirlo lui mi ha tirato sul palco alla fine e abbiamo cantato insieme una canzone di Modugno insomma è stato un incontro ci conoscevamo già da tempo però è stato poi un incontro anche artistico e ho pensato a lui per questo duetto ed è stata complice anche che la moglie Eleonora Pratelli che senza senza dir niente gli ha fatto ascoltare la canzone così a un passato e lui si è innamorato di questa canzone l'ha sentita forte lui poi è papà e quindi è andata lui metterà le sue doti attoriali dentro una canzone ma canterà anche grazie grazie a voi ciao